Cari amici ben ritrovati, guardiamo insieme la situazione medio climatica della nostra zona in quest'inizio di settimana. Ancora all'alta pressione su tutto il Mediterraneo grazie al cuneo anticiclonico di origine nordafricana che sta determinando cieli sereni e terzi praticamente su tutte le regioni, con qualche annuolamento solo tra le Alpi occidentali. Anche al sud qualche annuolamento irregolare sull'Appennino Calabro Lucano, ma senza alcuna precipitazione. Per il resto continua la fase tipicamente estiva, con temperature piuttosto elevate, comprese tra 31 e 36 gradi e con picchi massimi fino a oltre 37 gradi in alcune zone interne delle isole maggiori. Ma vediamo nel dettaglio cosa accadrà sulla nostra provincia per la giornata odierna, dove si riconferma ampio soleggiamento e caldo intenso, con temperature che particolarmente nelle ore centrali raggiungeranno i 32 gradi di massime e minime di 18 nella notte. I venti di debole intensità soffieranno da est a nord-est, ruotando soffiando da nord e nord-ovest nella sera ed il mare nello stretto di Messina sarà poco mosso. Sul versante tirenico giornata serena e soleggiata. Le temperature si manterranno tra 20 e 29 gradi e i venti di debole intensità soffieranno da nord-nord-est e da est-nord-est nella notte ed il martireno sarà poco mosso. Sul versante ionico il soleggiamento diffuso e temperature calde comprese tra 20 e 31 gradi diurni. Venti deboli soffieranno da sud-sud-est, ruotando poi nella notte da nord-ovest ed il marionio sarà poco mosso. Nella giornata di martedì 19 giugno continua il flusso d'aria calda di origine nord-africana a protezione dell'Italia e dei Balcani, con tempo stabile e soleggiato. Tuttavia si prevede un'infiltrazione d'aria umida da sud-ovest verso il nord-ovest, conseguenza di instabilità particolarmente nel pomeriggio sui settori nord-occidentali, dove non si escludono brevi rovesci e possibili temporali. Per il resto il clima resta stabile e soleggiato, con temperature sempre più elevate, specie in alcune zone interne delle isole maggiori. Ed anche sulla nostra provincia persiste il bel tempo, con clima sempre più caldo, le temperature infatti si porteranno ai 33 gradi diurni, le massime, e minime di venti nella notte. Venti di debole intensità soffieranno da nord e di mari saranno quasi calmo il tirreno, poco mosso lo ionio. Grazie per averci seguito, appuntamento a domani!